L'Italia ha fatto grandi passevanti negli ultimi anni sul fronte della digitalizzazione. Se prendiamo l'indicatore europeo del Digital Economy and Society Index, vediamo che nel comparto dei Digital Public Services siamo al diciannovesimo posto, ma andando a disarticolare questo confronto europeo, vediamo che sul fronte degli Open Data e dell'e-health siamo all'ottavo posto. Abbiamo in un solo anno guadagnato ben 11 posizioni. Questo perché c'è una strategia dietro dell'Agenzia per l'Italia Digitale e del Team per la Trasformazione Digitale per rendere l'Italia dal punto di vista del Digital Public Services, che è l'argomento della nostra conferenza e che ospitiamo il 20-21 novembre qui a Berlino in ambasciata e in fiera. Su questo fronte abbiamo fatto molto, più dei tedeschi che sono ancora in una posizione sottordinata attorno al quattordicesimo posto. Dobbiamo però invece fare molto di più sul fronte, indubbiamente, della connettività e soprattutto delle Digital Skills. Quindi spero veramente che questo appuntamento del 20 e 21 novembre, a cui aderiscono tante regioni italiane, possa essere anche una vetrina per mostrare anche alla Germania, nella sua principale convention annuale sui servizi pubblici digitali, i casi di eccellenza dell'Italia. Quindi auguro a tutti buon lavoro. Grazie a tutti.